Ciao a tutti gli appassionati di soppopera! Oggi ci tuffiamo nel mondo straziante di amore infinito, dove le emozioni sono forti e ogni decisione può cambiare il destino. Nell'ultimo colpo di scena, il nostro amato Kemal si trova di fronte a una scelta cruciale. Immaginate uno scenario dove la tensione è altissima. Kemal, noto per la sua forte volontà e profonda integrità, riceve una richiesta importante e in una svolta che ci ha lasciati tutti a bocca aperta, la rifiuta. Ma perché questo rifiuto è così significativo? Vi chiederete. Beh, non riguarda solo la richiesta in sé, ma da chi proviene e cosa rappresenta. Questa decisione potrebbe potenzialmente alterare le sue relazioni e il tessuto stesso della sua vita. Che dramma! Che intrigo! Noi fan rimaniamo con il fiato sospeso a chiederci, Cosa succederà dopo? Questo rifiuto porterà a una rottura con un personaggio importante? O forse è un punto di svolta in cui Kemal intraprende un nuovo e inaspettato percorso, portando a rivelazioni ancora più drammatiche? E parliamo delle implicazioni. Ogni scelta in amore infinito arricchisce la trama di emozioni più intense e relazioni più complesse. E se vi è piaciuta questa analisi del dramma di amore infinito, non dimenticate di mettere un like, condividere e iscrivervi per altri approfondimenti e aggiornamenti. Alla prossima volta, tenete vivo l'amore e il dramma!